salve a tutti i ragazzi e oggi facciamo un nuovo video a ammettere schermi essenzialmente oggi non ho messo il quadratino per fare la faccia ma chi se ne frega allora stiamo facendo sono problematiche allora dove quali immagina possiamo mettere questa qua di bonnie vediamo tutte e vediamo qual è la più bella allora allora secondo me da volta se possiamo mettere questa no questa no questa no questa no questa no oh ma che scusate ti ha messo un attimo google e poi andai via google scusate già un attimo pagato allora un po bellino vediamo da quale posso scegliere vabbè la più bella secondo me è questa mi piace allora mettiamo qua imposta foto un attimo fondo ok poi imposta sfondo e si metterà lo sfondo questa fine del video ciao